In linea del traguardo adesso anche il secondo classificato in tempo reale della classe crociera ed è un Elan, l'Elan 40 Blue Shadow di Maurizio Minafra, l'armatore Maurizio Minafra di questo Blue Shadow un Elan 40, quindi abbiamo visto un Anz 430 e ora un Elan 40 al secondo posto ancora se ce ne fosse bisogno a confermare quanto importante sia ed ecco il saluto, la contentezza di questo equipaggio mi sembra decisamente soddisfatto per il risultato, per la prestazione stiamo parlando di classi crociera e barche spesso proprio usate direi quasi esclusivamente dai loro armatori per fare crociere che pure si divertono e non poco a fare delle regate vere e proprie grazie grazie